Il riflesso glielo ho già detto, reputo che noi dobbiamo essere molto esigenti per quello che riguarda un andamento della politica economica che vada incontro alle domande, alle esigenze del nostro elettorato, che è un elettorato di piccole e medie imprese, di lavoro autonomo, di giovani, che è stato fortissimamente penalizzato dal 2012 e anche dalle code che attualmente ci stanno nel senso che stiamo in recessione.